Trasforma il tuo telefonino in una vera console portatile con i giochi dell'abbonamento Jamba. Manda un SMS con G1 al 48118 per SimCity Deluxe e costruisci la città dei tuoi sogni. Tu hai il potere! Manda G2 per il mitico Super Puzzle Bubble, l'unico, l'originale! Manda G3 per Pro Evolution Soccer 2010. Sfida i campioni del calcio! Ricorda G1, G2 o G3 al 48118, ora! Ricorda G1 a.